Io vorrevo cominciare chiedendovi qualcosa a tutti quanti su come avete lavorato insieme su uno degli aspetti secondo me più particolari e che emergono dal film, però sia il lavorare su una serie di tematiche che sono estremamente complesse, estremamente dure, estremamente attuali, ma al tempo stesso, spesso e volentieri, purtroppo trattate in maniera troppo retorica. Mi sembra che invece in questo film voi abbiate asciugato costantemente in ogni momento, sia nel rapporto tra i personaggi, sia nella messa in scena, asciugando costantemente in ogni momento in cui c'era il rischio di diventare giornalistici, non so come dire. Fin dalla primissima stesura abbiamo cercato di sottrarre un giudizio autoriale nei confronti dei personaggi che stavamo scrivendo. Questo è stato in qualche modo una specie di faro, una regola che ci siamo imposti con Davide Lisino, il mio sceneggiatore, perché non volevamo fornire delle risposte e cadere nel tranello, come tu giustamente dicevi, di spiegare qualcosa, anche attesi, volendo, ma volevamo in realtà lasciare i personaggi e lo spettatore liberi da un giudizio preimpostato, da un pregiudizio, se vuoi, per non fornire delle risposte, ma in realtà suscitare delle domande. E per quanto riguarda voi, come avete lavorato sul piano? Guarda, il mio metro per giudicare una sceneggiatura e decidere se interpretare il ruolo che mi viene offerto o no è quello appunto dell'emozione che mi porta chiaramente alla scrittura, in questo caso era presente, l'importanza del tema trattato e l'interesse che ne ho, e in questo caso era fortemente presente, però denoto nelle sceneggiature che mi vengono offerte, spesso c'è una, in Italia, una ridondanza di parole, di spiegazioni, molto di più di quanto non avvenga in altre cinematografie mondiali ed europee in particolare. La sceneggiatura di Mauro invece questo difetto non l'aveva e mi ha lasciato alla prima lettura, che per me è la più importante, la possibilità di immaginare dei luoghi, dei silenzi, delle luci che poi ho ritrovato nel lavoro fatto da Mauro. Sono molto felice di essere qui con questo film perché è un film che mi piace molto. Proprio perché, come ha detto lei, è il gesto, è l'azione e non tanto la parola che guida le interazioni fra i personaggi. Come avete lavorato voi attori? Come avete riempito quel vuoto che la battuta non vi lasciava a disposizione? Che la battuta assente vi lasciava a disposizione? Sicuramente c'è stato un grande lavoro di introspezione psicologica dei personaggi. Mauro ci teneva molto a questo, al fatto che non ci sovraccaricassimo di stati d'animo inutili che appresentissero appunto la messa in scena. Per questo erano le azioni legate ai sentimenti che poi portavano i personaggi a compiere il proprio obiettivo. Per me invece colmare quei momenti in cui magari non c'erano parole ma solo sguardi è stato abbastanza semplice perché grazie ad Alessandro e Sara, quei loro sguardi, riuscivo poi a dare anche i miei. Quindi per me è stato molto... Posso dire che in questo senso ci ha aiutato molto anche la città di Trieste che è una città che vive di silenzio, è una città abbastanza silenziosa ha una luce che solo Trieste ha, ha un freddo che solo Trieste ha, meraviglioso e a me ha aiutato moltissimo quella città lì. E a Luca invece volevo chiedere, invece dove ha trovato la rabbia per raccontare invece quei momenti così violenti, così fisici? Allora, la rabbia ho provato proprio a mettermi nei panni di Marcello di un ragazzo che così giovane sulla sua pelle vive dei momenti pesanti come la perdita del padre come il fatto che lui è cresciuto senza madre come appunto tutte queste ideologie pazze che ha per la testa quindi appunto semplicemente ho cercato di mettermi il più possibile nei panni di Marcello e le cose sono venute da sé poi con le emozioni. È difficile parlarne probabilmente senza cadere nel peccato mortale di questi tempi dello spoiler però un'altra cosa che mi ha colpito molto è quali sono state, diciamo, i punti di arrivo di questo film dove i tre vertici di questo particolare triangolo che viene messo in scena vengono fatti invece che convergere come spesso accade in molti film in maniera forse troppo rassicurante vengono fatti esplodere e lasciati ognuno a che fare con se stessi con il proprio passato e con la possibilità di un futuro su questo come avete lavorato? I personaggi di questo film sono sicuramente tre isole sono ognuno a suo modo soli nel mondo e contro il mondo mi verrebbe da dire quello di cui parlavi tu è un finale io volevo che ci fosse un finale aperto allo spettatore all'inizio dello spettatore diciamo al pensiero dello spettatore e la scena una delle, diciamo, delle scene finali che è quella scena che loro vivono tutte e tre insieme ci ha aiutato in questo perché c'è stata una costruzione quasi di un anticlimax se vuoi in quella scena dove potrebbe succedere di tutto potrebbe succedere che Marcello aggredisca Simone potrebbe succedere che Simone faccia lo stesso gesto nei confronti di Marcello perché vede che c'è qualcosa che non va ma quell'unica battuta in realtà di quella scena che c'è vera diciamo oltre, diciamo i convenevoli che si fanno tra di loro è una battuta di Marcello che dice ce la faccio ecco, dentro quel ce la faccio probabilmente c'è tutto il film se Marcello riesce a trovare la forza di farcela grazie a quello che ha capito durante il percorso che ha fatto forse anche noi possiamo trovare la forza di farcela